Il Giro d'Italia attraverso i primi piatti più caratteristici dello stivale è in corso a Foligno la 25esima edizione dei primi d'Italia, chermesse gastronomica organizzata da Epta Conf Commercio Umbria. Con questa manifestazione tutto il centro Folignate promuove a 360 gradi la cultura del primo piatto in tavola, oltre che per degustazioni, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi chef e momenti di spettacolo, riflettori accesi anche per le migliori produzioni alimentari. Disseminate per la città tante mostre mercato che mettono in evidenza i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un buon primo piatto. Il percorso del gusto parte da Piazza della Repubblica con la boutique della pasta, qui anche un marchio aretino, Menchetti, con la pasta prodotta con il grano bio, senatore Cappelli. E ancora all'angolo del mercato di Conf Agricoltura, all'atelier del gusto, la sezione street food, il percorso termina con il villaggio delle tipicità che celebra i prodotti del settore artigianale e artistico di qualità e agroalimentare.